Ciao a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovo travel video vlog Allora ragazzi oggi siamo arrivati qui alla diga del Vaillant e la visiteremo Adesso vi faccio vedere un po' dove si trova Tra queste due montagne in mezzo si vede una parte della diga Quindi ragazzi adesso andremo lì e allora ci vediamo dopo Ciao ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti Ok ragazzi siamo sopra la diga vi faccio vedere un po' di immagini da qui Grazie a tutti 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 ragazzi Adesso è terminato questo video Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti